Il casentino vuole progettare il futuro nel comparto delle costruzioni e con l'azienda Polistampe Infissi a Prode in provincia di Firenze a Bagnaripoli con un convegno rivolto all'innovazione, edilizia, off-site e intelligenza artificiale, una combinazione vincente per le sfide del PNRR. Abbiamo organizzato un meeting al Viola Parca Firenze il 7 maggio in considerazione delle varie scadenze che il PNRR richiede per il 2026, dove la velocità di esecuzione unita alla qualità dei prodotti è determinante. Avremo diversi interventi, fra cui un intervento di un esperto in intelligenza artificiale finalizzata all'assistenza e allo sviluppo di nuove tecnologie innovative per l'edilizia, sia per progettisti che per costruttori. C'erano interventi di vari esperti del settore nei vari campi di loro competenza, pavimenti, rivestimenti, infissi, impiantistica soprattutto, dove è determinante anche nella prefabbricazione la velocità di esecuzione, con cellule bagno prefabbricate off-site, innovativo, veloce da installare e con una perfezione nei dettagli migliore rispetto al tradizionale lavoro eseguito in opera in cantiere.